è una guerra economica mondiale dobbiamo decidere da che parte stare perché sono i soldi che fanno girare il mondo senza mostri non esisterebbero eroi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio potremmo alzare un muro altissimo intorno a tutta la Cina perché è il fine che giustifica il mezzo finché c'è guerra c'è speranza e il nuovo ordine mondiale? dormi tranquillo e sereno qui vibra? vedrà